Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana, sulla FIPILIP, per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni e possibili disagi tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo-Fiorentino in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 302 Brisighellese Ravennate senso unico alternato e il ristringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 13 nel comune di Fiesole. Worsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!